Le processioni del venerdì santo con il coro del Teco Vorrei a Campobasso e gli incappucciati sulle strade di Isernia, le manifestazioni religiose più seguite in regione. Nel fine settimana e lunedì di Pasquetta riaprono i luoghi della storia, culture ed arte delle due province. Sono attesi visitatori curiosi anche da fuori regione. I nuovi servizi previsti per le farmacie trovano l'apprezzamento di cittadinanza attiva che critica però il Governo nazionale sul rinvio delle tariffe dei LEA. Il Termoli vede più vicina alla salvezza diretta dopo i tre punti acciuffati a Riccione, riscossa Vasto Girardi contro il Matese, l'Aquila insidia il Campobasso al secondo posto. Un cordiale saluto dalla redazione nei principali centri del Molise in serata, le tradizionali processioni in occasione del venerdì santo per ricordare la morte di Gesù. A Campobasso, i Serni e Termoli, il passaggio dei cortei sacri per le strade e dei centri storici. Sempre nel capoluogo molisano la manifestazione è partita alle 18 dalla chiesa di Santa Maria della Croce con l'uscita del coro che, come ogni anno, canta il Tecovorrei. A Di Serni invece la processione degli incappucciati. Domani e domenica torna a Venafro la passione ambientata tra gli olivi del Parco regionale della cittadina nel solco dell'idea originale dell'architetto Franco Valente. La voce narrante dell'attore Umberto Taccola ed una coinvolgente colonna sonora accompagnerà il corteo La passione di Gesù si terrà alle ore 21 e prevede il coinvolgimento di un centinaio di figuranti. Nella domenica di Pasqua e lunedì in Albis i siti museali della regione resteranno aperti al pubblico per accogliere i turisti e far conoscere i luoghi della cultura. Vediamo. Ogni anno, durante le festività pasquali, famiglie e comitive di amici manifestano grande interesse per il turismo di tipo culturale. Anche il Molise offre la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero in luoghi di valore storico e artistico. La Direzione regionale Musei ha infatti predisposto l'apertura straordinaria dei siti storici e museali statali per le giornate di domenica 31 e lunedì 1 aprile. Aperti a Pasqua e lunedì in Albis il Castello di Civita Campomarano, il Castello di Capo a Gambatesa e il Pandone a Venafro. Tra le aree archeologiche, con le relative esposizioni museali di reperti, si segnalano il Museo di Venafro, il sito di Altilia a Sepino, ma anche il Santuario Italico di Pietrabbondante e il Museo di Santa Maria delle Monache, dove è stata allestita una mostra sul tema dei gioielli antichi intitolati La forma dell'oro, che sarà visitabile in orario pomeridiano. Tra i musei situati in città, resterà aperto come sempre il Museo Sannitico di Campobasso e quello del Paleolitico di Isernia. Un'occasione interessante per trascorrere le giornate di festa in Molise, un territorio ricco di tradizioni e dove c'è sempre molto da scoprire. Cambiamo decisamente argomento. I giudici del Tribunale di Isernia hanno disposto la sospensione per sei mesi dai pubblici uffici di due ex impiegati, oggi in pensione, delle comunità montane Volturno e Centropentria per indebiti rimborsi economici per presunte emissioni che arrivavano a superare anche i 2.000 km al mese, somme in un caso di poco inferiori 15.000 euro e di oltre 21.000 nell'altro caso. La Procura, pertanto, ha posto sotto sequestro le somme di denaro, profitto del reato contestato individuamente intascate dagli ex dipendenti. Si trova ricoverato all'ospedale Santimoteo di Termoli, l'operaio ferito, oggi appetacciato in uno stabilimento produttivo in via Mediterraneo. L'uomo, 54 anni, sarebbe rimasto schiacciato al torace e agli arti inferiori da un carrello. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Il disegno di legge e semplificazioni adottato dal Governo nella Capitale ha ottenuto il plauso di cittadinanza attiva che però punta il dito sulla proroga del decreto tariffe che rinvia i livelli essenziali di assistenza al prossimo anno. Parliamo della decisione del Governo centrale di prorogare attraverso il decreto tariffe al primo gennaio del prossimo anno il nuovo tariffario per i livelli essenziali di assistenza che, in parole povere, significa che le prestazioni a carica del Servizio Sanitario Nazionale introdotte nel 2017 non potranno essere erogate a tutti i cittadini. Una situazione davvero spiacevole, anche perché numerose sono state le proroghe e davvero moltissime le proteste fin qui giunte soprattutto dai laboratori e strutture private. Cittadinanza Attiva critica fortemente questa decisione che limita appunto l'accesso alle prestazioni, anche perché vuol dire che non è stata trovata alcuna soluzione alternativa per colmare ogni squilibrio dal punto di vista delle tariffe rimborsate alle strutture sanitarie senza penalizzare il diritto alla salute di ogni cittadino. Posizione negativa quindi quella di cittadinanza attiva che però plaude fortemente ad un'altra decisione, quella contenuta nel disegno di leggi adottato dal Governo, quello denominato semplificazioni dove si aumentano e di molto sia i canali che le modalità per i cittadini di richiedere e ottenere prestazioni sanitarie. Si semplificano infatti i percorsi avvicinando i servizi ai cittadini e perciò aumentando l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, tutto attraverso la nuova opportunità che mette le farmacie al centro di una serie di ulteriori servizi come quello di poter effettuare le vaccinazioni o di scegliere il medico e il pediatra di famiglia ma anche ottenere i farmaci per l'assistenza domiciliare oppure sfruttare i servizi erogati attraverso la telemedicina. Una novità che davvero aiuta i cittadini a velocizzare gli accessi a numerosi servizi che finora sembravano prigionieri di una vasta palude burocratica. Torniamo ancora sulla cronaca. Nella vicenda che ha visto il decesso di Barbara Ranieri all'ospedale veneziale di Isernia ci sarebbero due medici indagati per omicidio colposo. Si sono conclusi intanto gli esami autoptici sul corpo della donna. Si attendono quindi i risultati per fare chiarezza sull'accaduto. I funerali della 53enne sono previsti lunedì 1 aprile a Colli al Volturno. Ancora lunedì 1 aprile si svolgeranno pure i funerali di Antonio Dacci ma a Termoli. Il macchinista deceduto a causa di un arresto cardiaco mentre conduceva un treno partito da Pescara e diretto a Solmona. L'ultimo saluto nella chiesa di San Francesco alle 10 e 30. Dopo le segnalazioni da parte del Comitato Civico sulla situazione di degrado del cimiterio di Campobasso i consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto una seduta consigliare monotematica Palazzo San Giorgio sulla gestione dei servizi cimiteriali. Tra i punti da discutere lo stato di abbandono dei luoghi di sepoltura di personaggi illustri della città ma anche la necessità di rendere più facilmente accessibile l'area anche agli automobilisti. La tradizione nelle tavole della domenica di Pasqua sono cinque cibi ai quali nessun molisano direbbe no. Non soltanto religione come ogni festa che si rispetti anche la tavola vuole la sua parte. L'attenzione infatti a Pasqua non è riservata meramente a eriti ma anche e soprattutto alla cucina e alle tipicità del territorio. Certo è che ogni alimento della tradizione ha con sé un significato riconducibile alla festività pasquale. Il piatto per eccellenza che rappresenta lo spirito della Pasqua è quello dell'agnello cacio e uova. L'agnello simbolo del sacrificio di Gesù per salvare l'umanità e l'uovo simbolo della vita e dunque della resurrezione. Una ricetta tipica che trae le sue origini in Molise ma anche in Abruzzo. Immancabile tra i vari antipassi la cosiddetta frittatona realizzata con un gran numero di uova, almeno 50, alle quali va aggiunta cipolla e fegatino di agnello. Oltre la frittatona troviamo anche i fiadoni salati, piccoli panzerotti ripieni di formaggio che può essere caciocavallo o anche pecorino. Dei fiadoni esiste anche la variante dolce fatta con un impasto simile alla pasta frolla e al suo interno troviamo la ricotta. Sul fronte dei dolci troviamo inevitabilmente la pigna il cui ricordo va quasi tutte le nonne molisane. La ricetta ha origini piuttosto radicate e richiede un impegno nella preparazione non indifferente. Parliamo di una sorta di torta panettone che in Molise si differenzia dalle altre regioni del sud Italia per l'utilizzo delle patate che rendono la pigna ancora più morbida. Pasqua difficile per quasi il 5% della popolazione molisana che ha bisogno del sostegno alimentare poiché non è in grado di provvedere al proprio fabbisogno quotidiano. A lanciare l'allarme il Banco delle Opere di Carità. In questi ultimi giorni che precedono la Pasqua la pelle di ridurre gli sprechi e di donare il cibo in più ad associazioni impegnate nella lotta alla povertà alimentare. Ottava edizione del corso BLS Salva Vita all'Ateneo Molisano un evento voluto per formare genitori e nonne alle manovre per i bambini. Un'iniziativa di particolare importanza quella promossa dal consultorio familiare di Campobasso che riguarda il BLS Basic Life Support Manovra Salva Vita ad attuare in caso di emergenza in attesa dei soccorsi. L'appuntamento è giunto alla sua ottava edizione allo scopo di informare i genitori e nonni su quelle che sono le mosse da compiere in situazioni complicate che riguardano i bambini in particolare nei primi mesi e anni di vita. È un servizio che volevamo offrire a tutti, appunto i miei genitori come appena detto e caregiver che di solito sono i nonni, per poterli aiutare a conoscere quelle manovre che sicuramente non tutte quante le cinque manovre del Basic Support perché loro si devono fermare solamente alle prime due manovre in quanto loro sono laici e non operatori sanitari e le prime due manovre che possono aiutare a tenere in vita infatti Basic Life Support proprio per questo motivo finché non arrivi l'emergenza e quindi il 118 e quindi riuscire a tenere in vita il bambino, il lattante e il bambino, quindi distinguere quali sono le manovre tra lattante e bambino sia per l'arresto cardiaco che per l'ostruzione parziale o totale. I rischi sono direttamente proporzionali al tempo in cui il bambino rimane senza respirare e senza attività cardiaca quindi per questo le manovre servono e poi indichiamo anche tantissimo le manovre da non fare perché quelle sono ancora più pericolose, le manovre che non vanno fatte in questi casi quindi fargli conoscere prima qual è il pericolo e qual è il fattore di rischio e quali sono le manovre da non compiere e poi invece quelle da fare e naturalmente lo spettro, il nostro fantasma sono poi le complicanze cerebrali perché maggiore è il tempo in cui il cervello rimane in anossia o ipossia e maggiori sono poi le sequelle, quindi le complicanze a livello neurologico. Loro di solito all'inizio sono molto molto perché è normale, c'è un certo stato di agitazione qualora si presenti questa bruttissima occasione e cercare di tenere, anche se è difficile, quello stato di agitazione a bada e le domande che più frequentemente mi fanno ma io poi so riconoscere qual è il punto in cui compiere il massaggio cardiaco, qual è l'intensità del massaggio cardiaco e qual è la frequenza e queste sono domande che ci fanno capire che vogliono farlo e vogliono capire a farlo. Abbiamo un manichino pediatrico proprio per fargli fare, perché la prima parte è una parte teorica, la seconda è una pratica, quindi come avete visto poi tutti i genitori e i nonni caregiver eseguiranno poi la pratica sul manichino che è un manichino appunto che ci permette di far capire anche il tipo di massaggio cardiaco se viene fatto bene ma soprattutto la respirazione perché si vedrà il manichino che riuscirà a sollevare il torace qualora il tutto viene fatto bene. In una lettera aperta inviata al primo cittadino di Isernia Piero Castrataro e al presidente della giunta Francesco Roberti il sindacato USB esprime sostegno ai dipendenti dell'ex Unilever di Pozzilli dopo che il governo ha bocciato il progetto di riconversione delle attività produttive presentato da una società campana interessato allo stabilimento industriale. Nel frattempo i lavoratori dell'ex Unilever resteranno in cassa integrazione fino a dicembre. Scomparso quasi quattro anni fa il pediatra Sergio Zarrilli era il referente regionale di Nati per leggere il progetto che avvicina i bambini al racconto e alla lettura. Ogni anno viene ricordato con diverse iniziative. Vediamo quali. Era una persona dall'animo buono Sergio Zarrilli. Svolgeva con passione la professione di medico pediatra. Amava i bambini, li curava, li accudiva con grande amore. Ma era anche una persona per bene, un cittadino che aveva a cuore le sorti del pianeta e lo dimostrava aderendo all'ISDE, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente. Però il suo sogno è stato quello di essere sempre più vicino ai suoi moltissimi bambini per essere utile alla loro salute fisica ma anche a quella della mente e dello spirito. Viene da qui l'impegno costante con Nati per leggere e il riconoscimento di tutti che gli hanno dedicato uno specifico e stupendo premio letterario. Un pediatra a tutto tondo ma in realtà la pediatria deve affrontare i problemi del bambino a tutto tondo. Non deve fermarsi solo al momento della patologia. Il bambino va seguito nella sua crescita. La lettura precoce, sempre più precoce, è molto importante per lo sviluppo armonico e completo dei bambini, per appassionare i bambini alla lettura e alla cultura, ma anche proprio per far crescere il cervello di questi bambini nella maniera più efficiente possibile. La lettura è uno strumento formidabile per creare sinapsi, creare connessioni all'interno del cervello ma anche per creare connessioni al livello sociale. Il benessere non è solo uno stato di assenza della malattia. Il benessere è anche realizzazione sociale, portare i bambini a raggiungere il massimo delle loro potenzialità culturali che gli permetteranno poi un lavoro migliore, un futuro migliore, una vita migliore. E questo si può ottenere stimolando l'apprendimento, non soltanto a partire dall'età scolare, ma fin dai primi giorni di vita. Naturalmente da tutto questo nasce perfino un premio per ricordare Sergio. È doveroso ricordare Sergio perché lui è stato pioniere in questa nostra attività. Lui ha portato il programma Nati per Leggere qui a Campobasso molto precocemente. È un programma che esiste qui da noi da oltre 15 anni, 20 anni addirittura. È stato eccezionale e non possiamo non ricordarlo Sergio. È un premio dedicato a Sergio, non poteva che interessare la letteratura, a cui lui teneva tantissimo. In cattedrale a Termoli le ultime celebrazioni religiose prima della Pasqua, presiedute da Monsignor Gianfranco De Luca domani sera, la solenne veglia pasquale alle ore 22. Per intrattenere i più piccoli durante le festività, il comune di Vasto Girardi ha organizzato laboratori creativi e giochi di gruppo domani e martedì 2 aprile. Domattina il laboratorio si terrà al circolo di Villa San Michele, martedì invece si sposterà nella palestra comunale. E siamo adesso, come sempre, al meteo. Gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Tempo stabile, assenza di piogge sulle regioni del centro-sud Italia, con temperature in aumento sia nei valori minimi che nelle massime. In Molise temperature comprese tra la minima di 12 gradi a Campobasso alla massima di 22 a Disernia. In Abruzzo valori compresi tra la minima di 10 gradi all'Aquila alla massima di 23 a Pescara. Correnti meridionali, mare adriatico mosso. Domattina tempo stabile e soleggiato su entrambe le regioni. Finali femminili di Coppa Italia di pallavolo per le formazioni di serie B2. Le pugliesi del Biscegli al tie-break superano l'Alessandria. Nella finalissima di domani incontreranno l'Alseno. Gli incontri nazionali sono in corso di svolgimento a Campobasso negli impianti del Pala Unimol e dell'Ipia Montini. Passiamo adesso al calcio. Il cambio di mentalità e nelle sostituzioni hanno dato la svolta attesa dai tifosi al seguito del Campobasso nella trasferta marchigiana a Fossombrone. L'analisi è a fine gara del tecnico rosso-blu Rosario Pergolizzi per l'occasione sciupata. Il rigore è certo, vincevamo la partita e credo che poi alla fine l'avevamo anche meritata. Il primo tempo male, male sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto di voler far gol con quella cattia. Il primo tempo è cambiata la partita, c'è stata una sola squadra, fisicamente bene, tatticamente bene, chi è entrato è entrato bene, quindi sono contento per quello. È normale che c'è il rammarico del rigore sbagliato, però ripeto la squadra c'è. Non ero preoccupato nel primo tempo, era rammaricato perché non si può fare una prestazione del genere. Il secondo tempo invece è stata una prestazione fatta di livello. Ci siamo fatti un gol per una situazione che comunque si è verificata, però vai sotto e fuori casa con una squadra che si chiude bene, che sa difendere bene, però nel secondo tempo abbiamo mosso bene la palla. Sono contento per il secondo tempo, è normale, ripeto, il rigore poteva darci questa vittoria. Però credo che la squadra abbia risposto bene, è rammaricata però non ha vinto, ma è presente sicuramente. Sono episodi, sugli episodi non puoi fare nulla, in senso, noi nel secondo tempo si andiamo a vedere due gol annullati, due situazioni davanti al portiere, il gol, il rigore, quindi non è possibile che una squadra non crea nel primo tempo per creare nel secondo tempo, sono sempre gli stessi. È normale che sono cambiati due o tre giocatori, ma non è quello. È quello che è entrato un'altra squadra con la mentalità diversa e ripeto, io sono contento per la prestazione del secondo tempo, potevamo vincerla perché comunque anche i cambi sono andati bene, era una partita che potevamo vincere, purtroppo il rigore è andato come è andato, ma anche un'altra palla di Lombari è andata a fin di paio, c'è questo rammarico, però la squadra il secondo tempo ha fatto bene, più tempo male. Tre punti sudati, quelli del Termoli che spugna il campo di Riccione, i romagnoli falliscono nel finale, il pari con un calcio di rigore. Successo esterno contro una diretta concorrente per la salvezza, quello del Termoli giocato allo stadio Nicoletti di Riccione, punti che potrebbero risultare decisivi per i giallorossi a cinque turni da rompete le righe ed evitare i play-out finali. A sbloccare una gara equilibrata il centrocampista argentino Scoppa che prima della mezz'ora inventa una perla sotto l'incrocio dei legni. I romagnoli rispondono con un calcio pedazzato di Maio dal limite dell'area, Lombardo si rifugia in corner. L'ultimo acuto della prima frazione è ancora di marca molisana, alla conclusione Hernandez parla al lato di Poco. L'inizio dei secondi 45 minuti è tutto locale con i termolesi costretti ripetutamente a difendersi ai limiti della propria area. Le speranze dello United si riaccendono con Ferrara, sgambettato nei 16 metri da Maiorino, al minuto 35. Fallo dal dischetto, sistema il cuoio sul palo e Lombardo può tirare un sospiro di sollievo. L'undici di Mister Carnevale stringi i denti, fino al termine per la prima volta in stagione guadagna il decimo posto in classifica. Una posizione frutto del lavoro e dei risultati della squadra, soprattutto nel girone di ritorno. Ancora a calcio, Iacullo ha consegnato i tre punti al traballante Vasto Girardi nella sfida tra le ultime della classe contro il Matese. Con Iacullo in avvio di secondo tempo, il Vasto Girardi fa suo l'incontro tra le deluse del girone F e torna a respirare in classifica, superando il Fano al terzo ultimo posto. A dirigere il delicato match infrasettimanale al Ditella, il fischietto barese Palumbo. Su calcio piazzato avvia le danze rugieri al quarto d'ora. Galesio per i casertani devia la traiettoria in angolo. Alla mezz'ora un contatto nei 16 metri tra Fontana e l'ex capo basso ricamato fa reclamare la massima punizione per i padroni di casa. Non è d'accordo la terra arbitrale. I giallazzurri molisani premono con Caon 60 secondi dopo. Il portiere ospite Rinaldini è costretto agli straordinari per evitare di essere superato dalla sfera. Da azione d'angolo la risposta del Matese ricamato coglie la traversa. È l'ultima emozione prima del rientro delle squadre negli spogliatoi sul risultato di parità 0-0. Nella ripresa la Bio è nuovamente a favore dell'undici di casa. Cesaroni colpisce il palo al minuto numero 8. È il preludio al vantaggio firmato da Iacullo che sprutta al meglio l'invito di Zuccherato ed infila Rinaldini. Il vasto Girardi non sembra accontentarsi al 26esimo. Fontana sfiora calamorosamente il possibile raddoppio dinanzi all'estremo difensore Campano. Nelle battute finali della gara arriva il secondo legno di giornata per i molisani con una sberla di Cesaroni. Gli ospiti si fanno vedere solo prima del novantesimo ma la punizione della punta Galesio finisce contro la barriera. L'espulsione tra i locali di Gargiulo non cambia le sorti del risultato. Per i Matesini è notte fonda e il vasto Girardi al contrario ciuffa tre punti per sperare ancora di risalire la china in questo finale di stagione. Il terzo trofeo di bocce intitolata di Sernia Francoveloci va al Beneventano Gianluca Tarantino. La gara individuale nazionale è stata organizzata dal dopolavoro ferroviario. Dopo la sosta pasquale si tornerà in campo dal 3 aprile nel trofeo Primavera al Bocciodromo Comunale a Campobasso. E siamo in chiusura domani sera sempre nel capoluogo di regione. La Magnolia Basket sfiderà le salernitane del Battipaglia per la ventitresima giornata del torneo di pallacanestro femminile di A1. il confronto cestistico in programma alle ore 20 e 30 alla Molisana Arena in contrada Selvapiana. Noi ci fermiamo qui, è veramente tutto. Grazie a voi e arrivederci. Grazie a voi.